Ha ribadito l'importanza di intervenire con le misure di prevenzione sulle ricchezze? Sì. Che cosa gli fa più male? Il senso della mia presenza qui, della nostra presenza, appunto per misure di prevenzione è fare una conferenza stampa, piuttosto insolito. Però abbiamo pensato che era importante far sapere alla collettività, far sapere ai calabresi che ci stiamo attrezzando anche sulle misure di prevenzione. Noi siamo riusciti in procura a costituire un ufficio a misure di prevenzione a coinvolgere sul piano lavorativo anche per le misure di prevenzione il componente della procura ordinaria e quindi ora tutti i colleghi della procura di Catanzaro fanno misure di prevenzione, ad esempio in questo caso come procura ordinaria c'era il collega Mandolfino un giovane magistrato bravissimo, preparatissimo che ha giurato a preservizio il 2 novembre dello scorso anno qui alla procura di Catanzaro e già ha scritto, ha costruito una misura di prevenzione come ovviamente il procedimento cointestato col dottore Falvo e col dottore Romano. In questo lavoro voi avete visto che c'è coinvolta la finanza dalla provincia di Cosenza fino qui a Catanzaro, Lamezia, il gruppo di Lamezia. E' quindi proprio un progetto deciso a livello centrale dal comando generale con il supporto continuo e costante dello SCICO e il generale regionale che ovviamente sta spingendo molto i comandi provinciali, i gruppi, il GICO di Catanzaro proprio sulle misure di prevenzione. Mi è piaciuto molto l'intervento del procuratore soprattutto laddove ha sottolineato la collaborazione anche dello SCICO, è uno dei nostri reparti speciali che si trova a Roma ma che ha competenza nazionale proprio per consentire, si abusa questa parola sinergie ma nella fattispecie è il caso di utilizzarla, la componente territoriale che ha delle conoscenze specifiche su soggetti e dinamiche che solo localmente sono apprezzabili con delle banche dati sempre più performanti. Non abbiamo scoperto niente nuovo rispetto al passato, abbiamo sempre saputo che molte persone vivevano una vita al di sopra delle righe, sicuramente al di sopra delle loro possibilità economiche dichiarate. Cosa è cambiato rispetto al passato? Sono cambiate le possibilità che abbiamo noi, gli strumenti che abbiamo noi che oggi ci consentono di incrociare dei dati sempre in maniera più capillare in maniera tale da avere dei dettagli specifici sulla vita comportamentale e sulla vita invece dichiarata e laddove vi siano delle difformità importanti come nella fattispecie procedere ai sequestri. Una vecchia formulazione che è stata successiva su una nuova ma sicuramente la vostra